Al via la prima serie Juniores. E dunque in acqua abbiamo la prima serie record di Tania, Quaglieri, 28 e 77. Veronica Montanari in corsia centrale numero 4 per la Gesty Sport classe E02. In netto vantaggio e dunque lanciatissima verso la vittoria con il tempo di 28 e 66. E dunque record della manifestazione Veronica Montanari.